Ho deciso di fare questo master perché un collega che l'ha fatto qualche anno fa mi ha detto questo master mi ha cambiato la vita. Adesso che a mia volta sono alla fine, ho capito cosa intendeva dire. Quello che mi è piaciuto di più è stato incontrare un premio Nobel, avere la possibilità di andare a fare il tirocinio al CERN a Ginevra, capire l'importanza, il potere, la potenzialità della comunicazione e aver imparato a dire tutto questo in 15 secondi. Venendo da una formazione umanistica sapevo un po' scrivere ma ricordavo poco di scienza quindi mi sono arricchita molto grazie ai moduli tematici a carattere scientifico. Le cose che mi sono piaciute di più sono state essere rituitata da Gianni Riotta e aver fatto radio. Grazie a tutti.